Questa mattina il centralino della polizia municipale di Sala Consilina è stato assalito da continue telefonate. Le attenzioni di alcuni cittadini salesi residenti nei pressi dello stadio Svaldo Rossi si sono concentrate su una cucciolata di cani che da qualche settimana ha dimora fissa nella struttura sportiva. La mamma sicuramente avrà approfittato dell'assenza momentanea degli operai della ditta per partorire in un'area sicura come quella dello stadio interessata da lavori di ristrutturazione. Uno di questi cuccioli però sfortunatamente durante le prime luci dell'alba è rimasto impigliato nella rete della porta e con il continuo di menarsi, oltre che aggravare la situazione stringendo sempre più le maglie della corda, ha iniziato a guaire, attirando per fortuna le attenzioni del vicinato. Immediatamente gli uomini del comando vigili sono accorsi sul posto e dopo qualche minuto hanno provveduto a liberare il cucciolo, ormai stremato, ma comunque collaborativo fino alla fine delle operazioni. Sarebbero bastati ancora pochi minuti per vedere l'animaletto soffocare per colpa della rete che continuava a farsi sempre più stretta. Alla fine, mentre il cucciolo di corsa raggiungeva il resto della famiglia, l'agente della polizia municipale ha provveduto a mettere in sicurezza la rete alzandola e fissandola alla porta stessa. Vicenda lieto fine dunque grazie alla collaborazione di cittadini e forze dell'ordine. Grazie a tutti!